Processati oggi in Tribunale a Sondrio, gli autori del maxicolpo da 83.000 euro del 7 ottobre 2017 all'ipermercato del centro commerciale di Piantedo. Antonio Miani, 56 anni, di Bari, Antonio De Bortoli, di 70 anni, e Saverio Orlando, 47 anni, entrambi residenti in provincia di Bologna, finiti alla sbarra con l'accusa di furto aggravato, sono stati condannati dal giudice Antonio De Rosa a tre anni di reclusione e 800 euro di multa ciascuno. Ingegnoso il sistema escogitato dalla banda finita nella rete dei carabinieri del reparto operativo di Sondrio e dei colleghi di Chiavenna. Calandosi dal tetto all'interno delle condotte dell'impiantistica, il più snello dei tre era riuscito a segare le tubature della posta pneumatica, che veicola il contante verso un punto di raccolta, inserendovi una cassa metallica che permetteva di bloccare il bussolotto, estrarre il denaro e farlo proseguire vuoto. Gli altri intanto controllavano all'interno del centro commerciale che tutto fosse ok, tenendosi pronti in caso di fuga. Pur agendo con grande abilità criminale però alcune tracce, i tre le avevano lasciate, un'impronta sui tubi di ferro su cui il ladro si era arrampicato, i resti dei pasti consumati durante la permanenza e movimenti nei parcheggi del centro commerciale e al suo interno, elementi che i carabinieri avevano raccolto giungendo alla loro identificazione e quindi all'arresto.